Sono libero! Grazie, Spiro! Oh, beh, hai mai visto tu una danza dell'orso? Eh... no! Bene! È la tua giornata fortunata! Guarda qui! L'ultimo ballerino, vero? Non troppa resistenza, però peccato, avevo ancora un sacco di munizioni! Comunque so tutto di come avete combattuto contro la maga e il suo esercito e delle botte che avete menato! Volevo solo dirvi... yeah, yeah, yeah! Vorrei poter stare, ma il mio mondo è in mano e rinocca quando sono stato catturato! Se vedete la maga, ditele che le darò le azioni di ballo molto presto! Mi spiego? Sicuro! A dopo!